Musica Benvenuti su Double Travel con me Odri e qui c'è Sascha Buon salve E oggi abbiamo la git box bauletto avventure di Paldea Legge Bauletto avventura a Paldea con... dov'era l'antipatico? L'ho visto C'è questo qua l'antipatico Pikachu Ci sono dentro 6 bustine, uno squishy di Pikachu, degli adesivi Ma io l'ho presa perché il packaging è questo qua E' molto molto carino, qua in box, in camera qua è troppo... come si dice? Grosso Nessuno me l'ha mai detto quindi non so cosa voglio dire E non ci entra per l'appunto Allora io direi che adesso l'ho fatto a sbroxare Tolgo la pellicola e poi vi faccio vedere cosa c'è dentro Allora, ecco qua il box, ma se lei mi fa da... pure, ok? Me lo tenga così Questo è il box, molto molto bellino Adesso io vado a togliere la cartina qua intorno Che poi è troppo bellino Veramente È bene, è fatto bene Qua... cioè... Ma ecco l'antipatico Lo scemo pagliaccio Ah, si apre così Ma che roba fica Fate casa al casino Allora, qua ci sono le promo, credo Molto, molto bello Qua ci sono le promo che manco le ho viste Io le ho preso a scatola chiusa Con... non mi ricordo i nomi Paumot Ah, è quello che io odio Paumot Mushled Che è la serie dell'ultimo E... Questo bastardo Che non è il mio starter mai nella vita Spregatito Ma... spregatito È molto carinino Ma puoi metterlo, puoi metterlo Per ora, per ora Poi la mia assistente ci sta mostrando anche che c'è, vabbè, una deck box Ma no Molto carina a tema Il... le squishy Di Pikachu Lo sigla Di Pikachu Questo se lo becca Becca Finito Un mini album Piccolino Che poi metteci dentro tutte le peccatine belline Quelle che vuoi portarti sempre con te Ovunque vai E poi, da qualche parte Ci sono anche Gli... Adesivi Non è una cosa molto poco professionale Quella che stiamo facendo Anche perché vedete tutto il bordello che c'è dietro No, no, no Piena di cavi e robe che dobbiamo sistemare Niente Questi adesivi belli bellini E le carte che saranno immagino qua dentro Allora, i pacchetti che ci sono dentro sono tutti di espansione diverse Abbiamo lucentezza siderale, paradosso temporale, estrelucenti evoluzione di paldea, ossidiano infocata e paradosso temporale che è l'unico che ne abbiamo due Quindi Cosa vuoi fare? Li scegli tu a caso? Sì Io non mi ricordo come si spacchettano, eh Quindi li spacchettiamo a caso, non c'ho voglia di controllare Sì Tu ti ne sei presa uno di scarlato? Brava, però, sostitemporale ne hai presa uno e una Brava, iniziamo a spacchettare Vai Eh, però, non so com'è Non lo so, fai una, io non mi ricordo come si fa Prova con il trick dell'una Cioè, da scarlato e violetto dovrebbe essere uno, quindi Vediamo cosa trova Forse sì Forse sì Energia base, windput, elikid Tinkato Trapish Anforaterrestre Energia medica Saccoferreo Wimpot Ho già trovato Wimpot L'Audred Full Art Ma che bella è E dietro ho scagato fortissimo Graudon, che merda Tu c'hai troppo culo, eh In sto periodo Sto morendo Ma è bellissima sta artwork Ma è molto bella, sì È veramente bella Veramente bella Veramente bella Tra l'altro adesso la slevo E poi spacchetto ancora Tocca a me Io inizierei da ossidare Infocata così me lo tolgo subito Lo sento molto leggero Non ci sarà assolutamente nulla Qua dentro Ne sono molto più che certo Quindi andiamo subito a vedere Ma te lo butto nella tua parte così Lo sento molto Codice che c'è No, codice non c'è Trocazzo Sono deficiente Sono molto molto sicuro Non ci sia praticamente nulla Iniziamo con il Tentacol Tarocco Houndor Combi Diglett Cupitar Togetic Ninetales Houndor Reverse Scusa Non lo dico più Non lo dico più Charizard Charizard Ci sta Ci sta tanto Sì Ci sta tanto Quello gold Mi piace È bello Mi piace È molto molto bello Dietro c'è Scoviglian Ma ce ne sbattiamo i grandissimi cazzi Ma quanto è bello Molto bello E tra l'altro Sapete che sleeve sto usando Per metterlo via Oggi così a caso Queste Infatti se vedete dietro L'Houndred C'è quella di Charizard Che è proprio la sua sleeve È un caso Io non credo Allora Continuiamo con Lucentezza siderale Ciao Io sono super felice Aspetta Questa magia Vado a che costa Eh non Quindi ci avrà La cosa del contrario Vabbè tu fai il solito trick De merda Non ci capisco Niente Ok Ciò No 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 Cioè te le stai guarda tutte No Ok A caso Quindi è il trick da tre questo Ok Allora Energia Cricketon 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 Fossi sconosciuto Tutte 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 le Sì ho già visto le Pronto Mantin Baskulin Dipaldea Usui Glameo Se mi sta sui coglioni Cuciliera 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 Swinu Tenerina Weirdir Weirdir con E tanta roba E bellissimo E dietro abbiamo Uno sfigatissimo Maitilliera Sì è sfigatissimo Cioè ragazzi Non ci credo Non ci voglio Credere Lo mettiamo qua dentro Ma che bello è Weirdir È proprio bello Sì Adesso posso toccarla anch'io Adesso puoi toccarla anche tu Veramente Veramente bello Io Andrei di Evoluzioni Paldea Così Random Vediamo cosa ci troviamo dentro Ce la sentiamo calda? Non ce la sentiamo calda Questa non Questa Questa sinceramente Sove essere Più che sincero Non me la sento Per nulla calda Giraffareg Una megabot Rellor Questo qua mangia bene E siamo circolati Quaxly Patatina Grusha Che è la mia preferita Grusha Primae Abbiamo la full art Mismagius Snowververse Gotorita Full art Mi sta meno simpatica anche a te No è la sua evoluzione Mi sta meno simpatica E poi E Gyarados Come lo chiamano i giovani Geridos Come lo chiamo Lo chiamiamo noi Millennial Anziani Millennial Millennial Vabbè Un'altra full art Che sta succedendo oggi Ho detto che sto morendo Assurdo Assurdo Tocca a lei Le manca l'ultimo pacchetto Astri lucenti Astri lucenti Aspettate che l'apro la fa Così vediamo un attimo Perché Sennò qua faccio casino io E poi Allora Ho già il bordo bianco Questa qua Quindi sono Allora 1 2 3 2 3 What the fuck is this? Ah è la diastro Ah Fai Fai Dov'è l'energia? Guardatele tutte Sistemali allora A sto punto Non lo so Lo so che ho fatto Odri No non le sto vedendo Vedo solo se c'è l'energia o no Vabbè raga A caso A caso Tifo Del timidele Che è rubi Quello che è Riolu Riolu Balchoy No se passa Si è già visto che c'è una full art Snowroot Snowroot Ibi full art Quanto è bello Ma che buco di culo ci abbiamo oggi Kling 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 Amici di Galar E Provopass Ma che carino Molto molto Oggi Quanto pulissimo C'è Non lo so Forse era fatta apposta E' tagliata malissimo Tra l'altro Tagliata Veramente male Questa carta Non so se si vedono Tutti i pelucchi Ma è tagliata Ma è tagliata molto Molto male E' il mio ultimo pacchetto Che è di paradosso temporale Io spero vivamente Di riuscire a trovare qualcosa Perché adesso siamo in pareggio Anche se c'è Quel chariser lì No vabbè Non lo fa valere doppio Vabbè Se vuoi fare No no Non vale doppio Non vale doppio Non vale doppio Don't worry Don't worry Ci può stare Questa La metti Paradosso temporale Era una Se non mi ricordo male Quindi Io che c'è avuto L'incasinamento Wiglet Giraci Knackle Ombrellina Ma che cazzo Capsula energetica Tempo passato Cyclizza Scenario del professor Turum Onyx Reverse Liepard E collo ferveo Vabbè Non potevamo Vabbè Ma io charizard Te lo calcolo dopo No Hai vinto tu Hai vinto Hai vinto tu Hai vinto tu Non lo so Diteci voi Secondo voi Chi ha vinto Lei ha trovato Un evil Un weird Un loud red Full art Io ho trovato Gotorita Credo che sia L'alternative Immagino sì Charizard Full art Gold Teravoglio Così ve la puttano Diteci voi Chi ha vinto Sotto nei commenti Per il resto Abbiamo finito Tutto quello Da spacchettare I due video Li avete già visti Nelle settimane passate Questo è l'ultimo Dei tre Che abbiamo In serbo Per ora Poi vediamo Se ci arriverà Qualcos'altro Se ci manderanno Qualcosa Magari da aprire Lo faremo Niente Vi ricordo NicoStore Sotto Sotto In descrizione Trovate tutti i suoi link Per raggiungerlo Persona stupenda E invece Noi Possiamo salutarci qua Abbastanza soddisfatti Vi ripeto Fateci sapere Secondo voi Chi ha vinto Questo spacchettamento Se l'episodio vi è piaciuto Lasciate un bel like Iscrivetevi al canale Vi ricordo I nostri ditte Sotto nei commenti Ci vediamo Alla prossima Alla